E' già stata approvata l'assessore regionale dell'ambiente Cicito Morittu, l'Uprade gestione del sito di interesse comunitario Alghero Capocaccia. La zona dell'Alghè esigara una parca entra a Sparze. A Nakesharia, di fatti, esistì già una riserva marina e una terrestre. Lo racconoscimento con sito di interesse comunitario non cambierà l'usandirissis, detutela già la base dell'istituzione antecedente a Sparze. Arribaranno a scomunz che tenano SIC finanziamenti per un valore di 7 milioni di euro, mentre a favore delle sditas che trabagnano a rinta dei SIC sono stati accultati contributi per altri 6 milioni di euro.